Bello da vedere questo binomio, sempre veloce quando l'abbiamo visto, vedremo oggi se è in giornata il nostro Giuseppe, pronto a partire, passeggiata verso la fotocellula, la ripartenza molto vicina dalla fotocellula, è partito in questo momento, tirata stretta qua, Samira cavallo molto agile, snella, parte un po' forse con il freno a mano tirato, vedremo se è una scelta consapevole quella di Giuseppe, adesso allunga, sempre un po' trattenendo al pole, stava commettendo errore di percorso, lì in fondo avete visto allungare la mano verso il cancello, ma per sua fortuna si è fermato, ora arriva il cancello a 43, tempo un po' alto come abbiamo visto, un po' trattenuto oggi Giuseppe, almeno questo inizio gara, molto buone le barriere a terra invece, grande velocità qui, gli ultimi 3-4 ostacoli molto tecnici, molto pericolosi, parte centrale di gara dove accelera, vedete la velocità di Giuseppe al 360, è ora del side pass, e adesso è pronto a chiudere, il tempo è ottimo, 1, 11 e 12, una fa per il gioco.